Ti è mai capitato di avere i brividi ma senza alcuna traccia di febbre? Le cause possono essere diverse. La più ovvia è il freddo che, soprattutto in casi particolari come una dieta dimagrante, può coglierti anche la sprovvista. I brividi possono anche essere la conseguenza di uno shock o di una fobia o anche di uno stato emotivo positivo. Anche la menopausa può essere causa dei brividi, come conseguenza dell'intensa vasodilatazione tipica delle vampate. I brividi possono anche essere la conseguenza di alcuni tipi di infezione, come ad esempio quelle delle vie urinarie, delle vie respiratorie superiori, oppure dell'apparato digerente. Esistono inoltre altre malattie che includono i brividi tra i propri sintomi, come ad esempio alcune infezioni sistemiche, i simpatici calcoli renali, oppure infestazioni parassitarie come la malaria. Poi in ultimo ci sarebbero i brividi d'amore. Però purtroppo, o per fortuna, per quelli non esiste cura. Brividi, brividi d'amore!